buonasera vedete c'è un gatto là in questo tipo di cucchetta chiamiamola dove c'è acqua e cibo che gli porto io insieme diciamo così a dei chiamiamoli collaboratori importanti per questa iniziativa non so se lo vedete vedete c'è pure la zampa eccola si è mossa è bianca e nera purtroppo non c'è luce non c'è assai luce ora gli metto il cosiddetto lo chiamo io da esperto cibo di qualità allora cibo di qualità acqua di qualità quindi cibo di qualità acqua di qualità e cure efficaci se eventualmente hanno qualcosa che non va chiaramente col il parele del veterinario ci dice come somministrare questi queste cure efficaci per degli animali chiaramente randaggi giustamente non è come l'essere umano che sta fermo e i dici prenditi questa pillola chiaramente ci vogliono dei cioè ci vogliono delle strategie particolari ora vi metto questo cibo di qualità ora vediamo vediamo se chiaramente si sposterà perché giustamente ecco giustamente si sposterà bello che c'è che bello te te amore te aspettate un attimo scusate ecco qua aspettate un attimo ecco qua vediamo se se lo mangia questo è un attimo cibo di qualità è un attimo cibo di qualità io metto nella nella qua ecco ecco qua eccola che bello ecco la vedete si vedono le orecchie vai amore vai vai amore vai 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 te l'ho messo in mangiaruccio non hai fame vai amore vai amore vai che c'è bello vedete vedete allora parlare con gentilezza amore rispetto tenerezze verso gli esseri viventi ma anche verso gli esseri umani mai maltrattamenti lo ripeto fino alla nausea mai maltrattamenti vi sentite meglio quando applicate queste azioni queste azioni perché poi loro chiaramente gli esseri viventi ricambiano ricambiano e vi saluto sono le sono le 20 e 48 del 23 5 2023 estendete il mio ragionamento così lo potete capire vi saluto 9 11 11 13 14 15 14 15 16 15 16